Grazie. Allora, noi siamo fondamentalmente contrari a questo ordine del giorno, in quanto che la destinazione che è stata individuata in questa delibera è frutto di un finanziamento da parte della Prefettura, quindi andare a cercare altre cose utili e perdere il finanziamento sembra assolutamente ridicolo. Quindi per questo motivo bocciamo questo ordine del giorno. Grazie.